Da una storia tedesca importante che ci ha toccato personalmente, oggi raccontiamo la storia di un grande italiano, un grande anticonformista, Leopoldo Longanesi, Leo. E lo facciamo con un altro magnifico anticonformista che è qui con me, Pietrangelo Buttafuoco, buongiorno. Buongiorno. Pietrangelo. Però il magnifico no. Il magnifico, invece no, no, il magnifico anticonformista. Pietrangelo, per una volta sono io a dirti dove andiamo oggi, perché andiamo dentro il tuo ultimo libro, Il mio Leo Longanesi, appena uscito per Longanesi appunto, per celebrare i 70 anni della casa editrice. Un'immagine personalmente mi ha molto colpito ed è quella di te, piccolo, ad aggira, il tuo paese natale in provincia di Enna, che negli anni 60 aspettavi con ansia e trepidazione l'arrivo dei libretti della Longanesi. Ecco, cosa ti affascinava così tanto di quei libri? E forse le lame incrociate, era il simbolo, l'emblema e il logo della casa editrice di Leo Longanesi e poi certo anche le riviste arrivavano a Il Borghese e poi cominciavo a crescere. Quello che mi affascinava era la potenza grafica, la sfacciata modernità e poi lo spirito di un vero ribelle, qual era Leo Longanesi che attraverso i suoi libri, la casa editrice, che ha pubblicato dei testi meravigliosi, che in anticipo su qualunque Adelfi ha proposto i classici della filosofia, in anticipo su tutti ha portato il meglio della letteratura dei gialli, dei polizieschi. Insomma, era una bellissima festa anche perché, sai, si sta in paese e tutt'al più ci si aiuta con la musica. Comunque oggi, per ricordare i 70 anni della casa editrice fondata da Longanesi, sei stato scelto tu. E in questa scelta, proprio su di te che normalmente dividi, sono stati tutti d'accordo. Come ti senti? Intanto mi ha emozionato tantissimo, però non lo so se sono stati tutti d'accordo, ma ne sono accorto da un fatto, che i giornali istituzionali non ne hanno parlato, pur essendo Leo Longanesi fondamentale. E hanno storto sicuramente. Perché stanno leggendo? No, no, io conosci, conoscendo i meccanismi, sicuramente hanno trovato un imbarazzo a poter dire di Leo Longanesi quello che loro non potranno mai essere. Ecco, Leo Longanesi scrive, mai come oggi tanti asini scrivono sui giornali. Mi stai dicendo che è sempre vero? Sono pagine perfino non solo di 70 anni fa, di 80, anche di un secolo fa, sono pagine dell'ottocento eppure perfette per oggi. Chi avrà la bontà di sfogliare, di leggere, di godere di questa antologia, si renderà conto che è attualissimo. Perché, per esempio, le critiche cinematografiche, la cinematografia nazionale vista come un insieme di cartoline illustrate e incollate una dietro l'altra, sembra la recensione della grande bellezza. E riguarda gli asini, lo diceva lui che all'epoca seppe essere fornace, seppe essere matrice di grandi giornalisti, cito tanto per nominare quelli minori, Indro Montanelli o Mino Maccari o grandi scrittori da lui creati, quali furono Giuseppe Bertovi, Italiano Brancati, Mario Soldati. Ecco, lui si potrebbe permettere il lusso di dire questa, ma a maggior ragione oggi non potrebbe far altro che urlare dallo spavento. Basti pensare e vedere chi dirige i giornali oggi. Longanesi è stato un giornalista, un disegnatore, un pittore e un editore. Eclettismo a parte, qual è la qualità che ti ha colpito di più di Longanesi? La sua profonda, devastante malinconia. La malinconia però era anche molto ironico. Appunto, derivava da questo, lasciate che il mio cuore affoghi in un bicchiere di rum. Senti, ma per esempio, lui è stato ricordato come spesso, come un aforista, come un battutaro, ecco, però non era un battutaro. E allora ti chiedo, qual è la differenza tra lui, per esempio, e Flaiano? La differenza che c'è tra un artista, e Leo Longanesi fu un grande artista, e chi invece è un artigiano di quell'arte. Leo Longanesi è un grande capitolo perché è il forcipe che ha portato l'Italia nella modernità. Se esiste un linguaggio di sintesi, veloce, di immagine, di dinamicità, è derivata tutta da Leo Longanesi. Perché in lui c'è sia il bicchierino di Fernet, come la Vespa, in lui c'è la pagina ottocentesca, così come la freschezza del racconto giornalistico. Quando, per esempio, io vado in redazione al Fatto Quotidiano, entrando nelle stanze dei due direttori, in quella di Travaglio e in quella di Bofano, mi accorgo di un dettaglio che spiega tutto. In quella di Travaglio ci sono ovunque fotografie di Travaglio con Montanelli. In quella di Bofano ci sono ovunque fotografie di Bofano con Eugenio Scalfari. E uscendo da quelle stanze, mettendo insieme la storia professionale di Indro Montanelli e la storia professionale di Eugenio Scalfari, mi riferisco all'unica radice che li accomuna, che fu il giornalismo di Leo Longanesi, che diede vita a quello che fece Montanelli dopo e diede vita poi con l'Espresso a quello che poi è stata Repubblica. E per questo è stato dimenticato? No, diciamo che appartiene ed è custodito alla memoria profonda della qualità. E la qualità ovviamente non coincide mai con la vulgata, però vedrai. Questa antologia lo farà innamorare tantissima gente, perché leggendolo si accorgeranno che c'è tutto oggi in quel mondo di ieri. Un'ultima cosa ti voglio chiedere, Pietrangelo. Longanesi è anticonformista, è stato un frondista nel fascismo e un anti-antifascismo nell'antifascismo. Insomma, ma politicamente, chi era Longanesi? Erroneamente si potrebbe dire un grande conservatore in un'Italia dove non c'è nulla da conservare. Era un romagnolo, Mangiapretti, rivoluzionario, innamorato di Sant'Antonino da Padova. Fu anche un ribelle innamorato dello squadrismo al punto che si favoleggiò di uno schiaffo d'Arturo Toscanini. Lui era Longanesi e il Longanese è un carattere tipografico ben preciso inventato da lui che, quando scrisse la lettera alla figlia del tipografo, descrisse e raccontò come il momento perfetto di assoluta eleganza. Fu l'uomo elegante che l'Italia, cercando un italiano simile, non ebbe mai. Grazie Pietrangelo. Grazie a te. Il mio Leo Longanesi a cura di Pietrangelo Buttafuoco da festeggiare con la banda musicale.